E Mautino, fine agosto, inizia la quarta stagione di Ci vuole una scienza, senza che poi Ci vuole una scienza fosse realmente finito, perché le puntate sono continuate anche nel corso delle ultime settimane, anche se in realtà, possiamo dirlo, eravamo un po' in ferie, no? Eh, eravamo in vacanza, tra l'altro io, Magnetti, sono andata tra British Columbia e Alberta, ho visto… Beh, anch'io! Ah, anche tu? Ma tipo Vancouver Island… Bellissima, sì, gli orsi… E poi gli orsi, fantastico, poi anche i parchi grandi parchi, le montagne rocciose, sì, sì, bellissimo! Eravamo negli stessi posti, Magnetti! Eravamo negli stessi posti, però… Vabbè, dovete sapere, voi che ci ascoltate, che noi due siamo talmente piemontesi che siamo andati in vacanza negli stessi posti, ma con delle partenze sfalsate dei giorni necessari per non incontrarci proprio mai! Esatto, non è proprio successo, eravamo proprio l'inseguimento quasi tappa per tappa e non ci siamo mai incrociati! Mai incrociati, però abbiamo visto tantissime cose anche che hanno a che fare con la scienza e magari nel corso di questa quarta stagione qualcosa verrà fuori! Qualcosa riaffiorerà sicuramente, anche perché poi abbiamo anche dovuto fare i conti comunque con alcuni effetti del cambiamento climatico, per esempio facendo slalom fra vari disastri naturali, però intanto adesso in realtà c'è una puntata da fare, Mautino! Beh sì, c'è una puntata da fare e intanto salutiamo tutte le persone che ci ascoltavano, ma anche quelle che magari hanno iniziato da questa puntata ad ascoltarci, quindi benvenute, benvenuti o ben ritrovate e ben ritrovati! E oggi intanto quindi parliamo di Mpox ed emergenze sanitarie, delle solite banane sempre uguali e di lune super! Io sono Emanuele Mignetti E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza! Il 14 agosto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per il virus dell'Mpox o Mpox all'italiana, la malattia a cui un tempo ci si riferiva come vaiolo delle scimmie. L'annuncio ovviamente ha generato tanta preoccupazione e ha anche risvegliato poi dei sentimenti che vanno dalla paura di rivivere quanto abbiamo vissuto nel periodo più difficile della pandemia da coronavirus, ne siamo usciti da poco, alla negazione dell'emergenza, al complottismo che vede l'OMS e le autorità internazionali al soldo di Big Pharma, insomma cose che abbiamo sentito raccontare spesso. Proviamo quindi a mettere in fila un po' di elementi partendo da dove eravamo rimasti perché in effetti vi avevamo raccontato di questo virus in una delle prime puntate della prima stagione di Ci vuole una scienza. Era il maggio del 2022 quando erano stati riscontrati i primi casi di infezione fuori dal continente africano, nel Regno Unito, in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Israele. Parliamo di una malattia infettiva zoonotica che significa che può essere trasmessa agli esseri umani anche da altri animali che è stata identificata nella nostra specie per la prima volta nel 1970 nei villaggi delle zone delle foreste pluviali dell'Africa centrale e occidentale. È causata da un virus del genere ortopoxvirus che è lo stesso di cui fa parte il più famoso e anche il più pericoloso vaiolo. Si chiama questo virus MPXV da monkeypox che tradotto letteralmente significa appunto vaiolo o pox delle scimmie monkey che è una nomenclatura che arriva dagli anni 50 del secolo scorso quando il virus era stato scoperto in Danimarca su scimmie allevate in cattività. Ecco, dobbiamo anche dire che in realtà il virus colpisce in natura molte specie diverse, prevalentemente eroditori, alcuni anche usati come animali da compagnia, motivo per cui l'OMS dopo tantissimo tempo nel novembre del 2022 aveva deciso di abbandonare il nome di vaiolo delle scimmie e di adottare invece una sigla più neutra che è appunto MPOX. Anche perché, come vi raccontavamo in passato, associare un virus a un animale specifico o a una regione specifica, si parla spesso di variante del Congo per esempio, porta a conseguenze che sono poi negative anche per la salute. Da un lato infatti si alimenta lo stigma di alcune comunità e dall'altro si arriva anche a far sottostimare il problema altrove. Infatti se il virus riguarda chi ha contatti con le scimmie per esempio o chi arriva dall'Africa, allora noi che viviamo in Italia non interessa, no? Perché ovviamente è un problema addirittura di un altro continente. In effetti è un virus che è considerato endemico in Africa centrale e occidentale, quindi è sempre presente, può avere dei picchi epidemici, sono parole simili ma che significano appunto cose diverse, però appunto circola costantemente nella popolazione del luogo come per esempio la malaria in alcuni paesi oppure la dengue in altri. Questo non significa però che sia presente solo lì, infatti si è poi scoperto che seppur in casi sporadici questo virus circolava dalle nostre parti anche prima del 2022, spesso confuso con altre malattie come il banale, anche se decisamente fastidioso, fuoco di Sant'Antonio e veniva difficilmente identificato proprio perché viene considerato lontano da noi, quindi magari vedi quelle pustoline e le associa a qualcosa di più familiare. Il virus si diffonde principalmente attraverso il contatto ravvicinato con animali o con persone infette oppure con il consumo di carne contaminata, può anche essere trasmesso attraverso i rapporti sessuali e a tal proposito nella puntata di due anni fa vi avevamo raccontato dell'incidenza più alta delle infezioni che sono avvenute fuori dal continente africano proprio per la popolazione, all'epoca li si definiva maschi che fanno sesso con maschi. Si erano infatti verificati dei grossi focolai in concomitanza di due festival LGBTQ+, uno in Belgio e uno nelle Canarie e quell'epidemia del 2022 ha interessato complessivamente circa 100.000 persone in tutto il mondo con una componente molto alta di persone gay o bisessuali. In seguito a quella rapida diffusa nell'OMS aveva già dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale che viene poi identificata con l'acronimo PHEIC, da Public Health Emergency of International Concern, cioè il livello di allerta più alto nella classificazione di rischio per un'emergenza che obbliga poi formalmente gli stati aderenti all'OMS a prendere dei provvedimenti. È una classificazione che è effettivamente vero che è il livello più alto di allerta però non definisce la gravità specifica del rischio ma ne valuta la dimensione globale in termini geografici ma anche le ricadute per esempio sui viaggi internazionali oppure sul mercato e serve ad agire in fretta e soprattutto in maniera coordinata tra paesi diversi. Quindi è un'allerta del tipo oh svegliatevi. E sembrava che si fossero svegliati perché l'emergenza infatti sembrava essere rientrata grazie a una campagna importante di vaccinazione soprattutto in quelle porzioni di popolazioni più interessate. Però poi le cose si sono di nuovo messe male e negli ultimi mesi c'è stata una crisi crescente di M-pox concentrata nella Repubblica Democratica del Congo che si è diffusa a una dozzina di altri paesi africani e potrebbe se non venisse poi contenuta di nuovo diffondersi in altre parti del mondo. E il virus responsabile di questa nuova ondata è diverso comunque da quello di due anni fa. Lo sappiamo i virus mutano, cambiano col tempo, possono migliorare o peggiorare ovviamente dal nostro punto di vista e possono nascere anche varianti più o meno infettive e più o meno letali. E nel caso specifico del virus che causa l'M-pox sappiamo da tempo che ne esistono due tipi principali chiamati banalmente uno e due. Allora il virus responsabile dei focolai del 2022 apparteneva alla versione 2, quella considerata meno pericolosa. Mentre l'epidemia attuale è provocata dalla versione 1 che suscita una malattia più grave e ha un tasso di mortalità molto più elevato. Si parla del 3% rispetto allo 0,2% che era stato osservato nell'epidemia del 2022. Solo in Congo da inizio anno a metà agosto sono stati segnalati 15.600 casi di AIM-pox e 537 decessi, la maggior parte dei quali tra bambini di età inferiore ai 15 anni, motivo per cui l'OMS ha lanciato di nuovo l'allarme nei giorni scorsi dichiarando appunto l'emergenza sanitaria internazionale. I funzionari dell'OMS sperano di contenere questa epidemia prima che si diffonda ad altri continenti e magari anche di contenerla nel continente africano, quindi di ridurre l'impatto. L'infezione può inizialmente assomigliare a una comune malattia respiratoria come un sacco di malattie che poi fanno dei danni incredibili e quindi all'inizio febbre, dolori muscolari, però poi in seguito si trasforma in un'eruzione cutanea con delle pustole sul viso, intorno alla bocca, sulle mani, sui piedi oppure nella zona dei genitali. Può proprio per queste pustole che sono simili a pustole di altre malattie essere confusa come dicevamo per esempio con il virus della varicella che appunto poi provoca il fuoco di Sant'Antonio. Il virus che provoca l'Mpox si diffonde principalmente tramite contatto ravvicinato direttamente con la pelle oppure con i fluidi di una persona infetta anche in assenza di sintomi oppure con lenzuola oppure altri oggetti contaminati. Come per molte altre infezioni nella stragrande maggioranza dei casi passa da sola grazie all'azione difensiva del sistema immunitario. Le categorie più a rischio di malattia grave sono quelle più fragili come gli anziani, i bambini e le persone con un sistema immunitario compromesso. Sulla base di queste informazioni ci diventa un po' più chiara l'azione dell'OMS e anche poi le preoccupazioni per la nostra salute dovrebbero un minimo ridimensionarsi. Aggiungiamo anche qualche altro dato in Europa oggi è stato segnalato solo un caso di infezione in Svezia di questa nuova versione del virus in una persona che aveva viaggiato nei paesi africani più interessati dalla malattia. E gli esperti non escludono che ovviamente ne spuntino altri di casi e che possano di nuovo verificarsi dei focolai come quello del 2022. Però ci troviamo di fronte a una situazione che per ora è molto diversa da quella che abbiamo vissuto durante la pandemia da coronavirus. Anche perché a differenza del coronavirus che in sostanza è spuntato dal nulla e un po' a sorpresa, il virus dell'Mepox è un virus noto da tanto tempo e per il quale esistono dei vaccini che sono tutto sommato efficaci. Anzi è più corretto dire che si è scoperto che i vaccini per il vaiolo propriamente detto proteggono anche da questa malattia. E quindi benissimo no? Beh più o meno perché il vaiolo è una malattia che grazie alle campagne di vaccinazione che sono state effettuate nei decenni passati è stata considerata eradicata cioè eliminata del tutto negli anni 80 del 900 ed è anche il motivo per cui le persone nate a partire da quel periodo in avanti non sono più state vaccinate salvo in casi particolari. L'OMS infatti ha organizzato alcune campagne vaccinali in alcuni paesi per evitare un ritorno del vaiolo e per farlo ha anche utilizzato un vaccino di terza generazione che è più moderno dei precedenti e quindi anche relativamente più sicuro che era stato sviluppato nel 2003 dall'azienda danese Bavaria Nordic in collaborazione con il governo degli Stati Uniti. Questo vaccino chiamato MVA-BN è stato poi impiegato nel 2022 per prevenire la diffusione dell'Mpox in Europa e negli Stati Uniti con una campagna vaccinale rivolta in modo prioritario alle persone che rientravano nelle categorie ritenute più a rischio di contagio. Quindi il personale di laboratorio a contatto con il virus, le persone con comportamenti sessuali considerati a rischio e poi le persone venute in contatto con persone malate. Per l'Istituto Superiore di Sanità l'efficacia stimata di due dosi perché in questo vaccino funziona così con due dosi quindi l'efficacia del ciclo completo è pari all'82% mentre una sola dose comunque fornisce una copertura con un'efficacia del 76%. Se la vaccinazione avviene dopo l'esposizione al virus c'è comunque un piccolo aiuto circa del 20% mentre gli individui che hanno contratto l'infezione dopo essere stati vaccinati sviluppano una malattia meno grave rispetto agli individui non vaccinati per questo si dice che questi vaccini funzionano e funzionano anche abbastanza bene. E però purtroppo la scarsa disponibilità e anche i tanti problemi economici dei paesi più interessati dell'Africa orientale e occidentale fanno sì che non sia ancora stato possibile fare delle campagne vaccinali di larga scala che ricordiamo servono in quei paesi lì perché è lì che adesso c'è l'emergenza sanitaria. L'azienda Bavaria Nordic ha annunciato la donazione alla Repubblica Democratica del Congo di circa 40.000 dosi del proprio vaccino e si è impegnato a raggiungere una produzione di 2 milioni di dosi entro fine anno e di 10 milioni per il 2025. Che sembrano tante però poi non lo sono anche considerando che buona parte di quelle dosi poi arriverà a noi e non come dicevi tu ai paesi più interessati. Al netto di tutto questo come avete sentito la situazione per noi è relativamente tranquilla bisogna fare attenzione però con precauzioni di buon senso applicabili a molte altre malattie infettive. La situazione invece nei paesi africani interessati dall'epidemia non è per nulla tranquilla e però non è una novità lo è diventata per noi perché tristemente si sono registrati alcuni casi di malattia qui in Europa e quindi quello che prima era invisibile per noi è diventato visibile però gli scienziati i medici le persone che lavorano a stretto contatto con queste popolazioni era da anni che avevano lanciato questi allarmi. E sì anche perché quando poi si parla di Africa spesso si tende a mettere insieme anche poi tante cose che sono diverse l'Africa è un continente gigantesco eppure per noi dalla nostra prospettiva occidentale è quasi un'unica cosa. E allora per provare anche a raccontare che cos'è effettivamente l'Africa provare anche a smontare tanti luoghi comuni e a volte anche tanti pregiudizi la casa editrice del post altre cose ha da poco pubblicato un nuovo libro che si intitola Non a caso l'Africa non è un paese che è stato scritto da Dipo Falloin che è cresciuto in Nigeria e che vive a Londra dove collabora con diverse testate internazionali che fa proprio questa cosa cioè raccontare che cos'è effettivamente l'Africa o per meglio dire da cosa è composta l'Africa i tanti pezzi che poi rendono questo continente che è quello più vicino del resto poi al nostro di continente così particolare e spesso anche poco raccontato. Se vi interessa trovate il libro sullo shop del post sul sito oppure in tutte le librerie fisiche e online e vi metteremo anche un link in descrizione. Bagnetti ma cosa stiamo ascoltando? Ma come cosa stiamo ascoltando? Sono i Minions no? Quelli di Cattivissimo Me? Eh però tu lo sai che io ho un po' di lacune cinematografiche. Sì vabbè però se c'è una cosa che comunque sanno tutti è che i Minions sono grandissimi appassionati di banane. Ah eh no non lo sapevo a me sembrano solo un po' insopportabili. Vabbè però è questa in realtà la loro forza comunque non parliamo di Minions anche se sarebbe interessante descriverli scientificamente ma di banane e di un nuovo sviluppo per la loro salvezza. Ah bene ci spostiamo su temi un po' più agricoli mi sento un po' più a mio agio e in effetti parliamo di banane perché insomma a loro piace vivere pericolosamente o meglio siamo noi che abbiamo reso pericolosa la loro esistenza a forza di usare praticamente una sola varietà di banana. E questo in biologia non è mai una buona idea. No anche perché in un certo senso potremmo dire che mangiamo sempre la stessa banana che è un clone della banana che abbiamo mangiato la volta precedente e così via per dieci, cento, mille, milioni di volte. Ma come sempre andiamo con ordine. Sì tra l'altro a me le banane non piacciono quindi al massimo le mangi tu megnetti. Vabbè quindi almeno siamo sicuri che non c'è conflitto di interessi nel raccontare la notizia. Decisamente tutto comincia nei paesi tropicali dove viene coltivata la maggior parte delle banane che vengono poi trasportate in mezzo mondo con uno sforzo logistico non da poco soprattutto per i tempi visto che ci si deve assicurare che questi frutti siano messi in vendita al giusto punto di maturazione. In decenni il sistema è stato perfezionato sempre di più grazie all'impiego di standard e di sistemi condivisi che riguardano anche le banane coltivate ed è questo alla fine il motivo per cui in buona parte del mondo mangiamo, mangiate tutti le stesse identiche banane proprio come dicevi tu megnetti. La varietà più diffusa e coltivata è la cavendish cioè la banana che conosciamo tutti che ha frutti relativamente lunghi, una polpa che rimane compatta fino alle ultime fasi della maturazione quando poi diventa morbida e dolciastra e anche un po' viscida. La cavendish è uno dei tanti ibridi che si sono ottenuti nel tempo dall'incrocio delle specie musa acuminata e musa balbissiana per ottenere dei frutti con quantità crescenti di polpa. Fu grazie ai ripetuti incroci che si ottennero alla fine delle banane senza semi quindi diverse da quelle selvatiche in cui i semi occupano grande spazio proprio all'interno del frutto e sono letteralmente immangiabili. Eh sì, infatti se poi cercate su Google vedrete hanno un aspetto veramente strano rispetto alle banane solite a cui siamo abituati. Comunque il vantaggio ovviamente era avere appunto dei frutti che fossero più polposi mentre lo svantaggio fu quello di ottenere varietà che non possono essere riprodotte utilizzando i loro semi ma solamente tramite la propagazione. Quindi prendi una pianta e da questa ottieni altre piante che sono di fatto dei cloni della pianta di partenza, una cosa che probabilmente Mautino fa di continuo sul suo balcone con le piante, no? Sì, ho anche provato a farlo con dei banani ma non è andata benissimo. La vendetta questa era. Allora le Cavendish come altre varietà di banane non hanno quindi la possibilità di mischiare più di tanto il loro materiale genetico con altre piante e sono di conseguenza più esposte a malattie e parassiti perché ci sono meno mutazioni casuali che attraverso la selezione potrebbero favorire la loro sopravvivenza a particolari agenti esterni. E questo per i produttori di banane è il problema dei problemi contro cui hanno già dovuto anche affrontare pesanti conseguenze in passato più di un secolo fa. Eh sì, quando nella seconda metà dell'Ottocento furono avviate le esportazioni di banane su grande scala si affermò la varietà Grosse Michel. Era una banana resistente, maturava con i tempi giusti per poter essere trasportata proprio in questi lunghi viaggi da un continente all'altro senza il rischio che andasse velocemente a male. Alla fine della seconda guerra mondiale la Grosse Michel aveva permesso ai produttori di espandere enormemente il mercato delle banane, però in poco tempo un imprevisto ha decimato le coltivazioni. Eh sì, quell'imprevisto era un fungo che aveva attaccato le piante che, essendo pressoché tutte identiche, non avevano difese contro questa infezione. Quella disastrosa epidemia fu definita malattia di Panama e riguardò tutte le principali piantagioni nell'America centrale e nel Sud America. A causa di quel fungo la Grosse Michel non era più affidabile per farci sopra grandi affari e per questo i produttori si dedero da fare per trovare una sostituta che fosse più resistente appunto a quel fungo. Ed è così che dopo un po' di ricerche salto fuori che la banana ideale era la Cavendish, che è quella che ci mangiamo ancora oggi. Era una varietà già nota da tempo, ma veniva coltivata meno perché aveva tempi di maturazione un pochino diversi e soprattutto un sapore che per alcuni era meno intenso della Grosse Michel. Potremmo dire che era un po' meno bananosa. Sì, non so se sia il modo più scientifico per dirlo, però rende sicuramente l'idea. E la Cavendish resisteva bene al fungo e quindi i principali produttori convertirono le loro piantagioni in poco tempo, evitando il probabile collasso del settore se avessero insistito con la Grosse Michel. Però al cambiamento della varietà non fu fatto corrispondere un vero cambiamento nelle tecniche di coltivazione, ammesso fosse possibile. Si usò lo stesso principio della propagazione e quindi della produzione di cloni di banane con tutti i rischi del caso che si erano già registrati in precedenza. Non hanno imparato la lezione. Ancora oggi le Cavendish sono le banane più diffuse al mondo, però proprio come era successo con le Grosse Michel iniziano a essere sempre più esposte ad alcune forme della malattia di Panama. I primi casi di infezione erano stati segnalati una quindicina d'anni fa nelle piantagioni in Malaisia e a Sumatra. Le piante erano state analizzate e si era scoperto un fungo, il Fusarium oxysporum della sottospecie cubense, che impedisce al sistema vascolare dei banani di far circolare la linfa. Le foglie ingialliscono e poi cadono e la pianta non riesce a produrre i frutti e tantomeno a sopravvivere. Il fungo riesce a diffondersi con facilità perché, appunto, come abbiamo visto, le piante sono pressoché tutte identiche, quindi è difficile isolare ed eliminare per tempo quelle infette. E il risultato è che negli ultimi anni le notizie sulle infezioni fungine sono diventate una costante con notizie che riguardano queste monoculture, quindi queste culture di piante appunto tutte uguali, in Asia, in Africa, in Australia e da qualche tempo anche nell'America centrale e in Sud America. E la diffusione della malattia di Panama rischia quindi di nuovo di avere un forte impatto sul mercato come era successo nel Novecento, visto che soprattutto nei paesi economicamente più sviluppati consumiamo quasi esclusivamente le Cavendish. E trovare una soluzione, anche in questo caso, non è semplice. Da anni si studia la possibilità di sviluppare piante con sistemi di edit in genetico, come per esempio CRISPR-Cas9, per introdurre una maggiore diversità genetica che, come abbiamo visto, manca nelle coltivazioni. E un'altra possibilità di intervento deriva invece dal comprendere meglio come funziona il fungo che causa la malattia di Panama, che si presenta con versioni lievemente diverse tra loro a seconda poi della varietà di banana. E questo ci porta agli sviluppi delle ultime settimane e a una novità emersa da poco. A metà agosto, infatti, un gruppo di ricerca statunitense e cinese ha pubblicato uno studio sulla rivista scientifica Nature Microbiology, nel quale spiega di aver passato quasi dieci anni a studiare gli ultimi sviluppi della malattia di Panama. Questa ricerca spiega che il fungo che interessa le Cavendish non si è evoluto direttamente da quello che aveva determinato la fine delle gross miscelle, che sfrutta la produzione del monossido di azoto proprio per diffondersi. I ricercatori ipotizzano quindi che intervenendo su questa produzione di monossido d'azoto, disattivando i geni che la controllano, si possa ridurre la capacità del fungo di continuare a diffondersi all'interno della pianta fino a farla stramazzare. Quello della ricerca è quindi un progresso importante nella comprensione dei meccanismi di diffusione del fungo, ma, dobbiamo ricordarvelo, non è ancora la soluzione al problema, visto che il sistema ipotizzato dal gruppo di ricerca deve essere ancora sviluppato e messo alla prova. Al tempo stesso, poi, è lo stesso studio a ricordare comunque l'importanza di diversificare le coltivazioni di banane, proprio per evitare che un fungo possa sterminarle tutte senza possibilità di difendersi. Di questa necessità del resto si era anche parlato molto lo scorso marzo, quando i delegati da tutto il mondo si erano riuniti a Roma in occasione del World Banana Forum dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che poi è quella che comunemente chiamiamo FAO, per fare il punto sul futuro delle banane e poi anche del resto sull'intero settore, che genera ogni anno svariati miliardi di euro di fatturato, ovviamente. Infatti, se può far sorridere l'idea che esista un World Banana Forum, in realtà le banane sono una delle coltivazioni più importanti a livello agricolo e quindi ci sta che ci sia. L'Unione Europea è il principale importatore di banane, si stima che nel 2023 ne abbia importati circa 5 milioni di tonnellate, pari al 27% delle importazioni totali, seguita da Stati Uniti con il 22% e dalla Cina con il 10%. Il mercato delle banane è controllato da alcune grandi aziende che determinano di fatto i successi delle varietà in circolazione, che in questi anni hanno mostrato di essere molto affezionate alle Cavendish, anche per via della domanda da parte dei consumatori finali. Noi siamo abituati alle banane fatte in un certo modo, che è tra l'altro sempre quello, al punto da non concepire la possibilità di avere banane con colori o con dimensioni diverse e magari con nomi esotici come Latundan, Pisangraja, Blue Java, insomma quindi nomi che non abbiamo mai sentito e che quindi tendiamo un po' a respingerle. Coltivarle non è sempre semplice, i loro tempi di maturazione di queste altre varietà sono diversi, sono meno pratici per chi si occupa di esportarli rispetto a delle banane che maturano più o meno tutte con gli stessi tempi e per le quali esistono proprio dei protocolli, molto standardizzati di processamento e di trasporto. Eppure differenziare di più sarebbe utile anche per l'ambiente, visto che le monoculture sono un problema per la biodiversità, cioè la varietà di specie che vive in una certa zona. Piante tutte uguali tra loro riducono la possibilità per altri organismi di vivere e prosperare portando ad un impoverimento degli habitat e questo ovviamente riguarda anche le coltivazioni dove non sono piante clonate l'una dall'altra. Siamo però abituati a spendere poco per una banana, dobbiamo anche dire questo, spesso meno di quanto spendiamo per un frutto nostrano e i prezzi più alti che magari sarebbero legati a una maggiore diversificazione potrebbero influire sulla domanda, cioè sulla disponibilità delle persone di continuare a consumare banane. Ed è anche per questo motivo che i produttori cercano di tenersi stretta la buona vecchia Cavendish. Ah Megnetti, l'estate mi ha fatto bene, sono più buona, ho deciso di farti un regalo, ho tenuto da parte dei ritagli di giornale perché mi sono detta vabbè questa cosa che a me non piace lo spazio insomma non va bene, devo recuperare, devo anche insomma nei confronti di chi ci ascolta far vedere che in realtà lo spazio mi piace, mi interessa, non è vero che lo odio come spesso traspare dalle nostre puntate e quindi vado a leggerti alcuni titoli Megnetti. Diciamo le premesse sono un po' tante quindi non so se poi, comunque vediamo. No fidati fidati, allora la prima super luna dell'anno ha dato spettacolo, la notte della super luna, tutte le foto del mondo, è la notte della super luna, ecco perché è così luminosa, qual è l'ora migliore per ammirarla? Spettacolo astronome, no devo finire. No basta, fermatela, cioè volevi farmi un regalo ma in realtà è un po' scarsino come regalo, anzi perché c'è la luna, ma perché la super luna è una proprio una truffa, è una cosa che proprio mi irrita nel racconto delle cose di spazio. Ma come una truffa? Eh beh scusa allora, proviamo a mettere un po' d'ordine anche in questa cosa qua ma molto velocemente. La terra, ci abbiamo presente tutti, è lì tranquilla che gira intorno al sole no? Sì. E poi intorno alla terra gira la luna. Sì. Ok, la luna compie un'orbita intorno alla terra, questa orbita non è un cerchio perfetto, ma è l'elementellittica no? Quindi in alcuni momenti la luna è un po' più vicina a noi, in alcuni momenti è un po' più distante da noi. Sì. Quando la luna è più vicina a noi e al tempo stesso si verifica una luna piena, si dice che c'è la super luna. Ma sì è bella no Meghetti, è grande, enorme, cioè vedi non so il partenone con dietro questa super luna gigante. Grande, enorme, questo è anche discutibile, diventa un pochino più grande all'apparenza ovviamente perché la luna ha sempre le stesse dimensioni solamente un po' più vicina a noi. Cioè la vediamo del 6% più grande rispetto a una luna piena media, una luna piena normale. Allora qui possiamo fare un esempio che fa spesso Neil deGrasse Tyson, che è un grande divulgatore scientifico degli Stati Uniti, che si occupa soprattutto di spazio e lui racconta sempre questa cosa per la super luna. Dice se voi andate in una pizzeria e chiedete una pizza normale, vi danno una pizza che di solito ha un diametro intorno ai 30 centimetri. Poi vabbè, lì negli Stati Uniti si danno da fare con le dimensioni delle pizze. Se tu volessi avere una pizza un pochino più grande, del 6-7%, come è la super luna, avresti una pizza di 32 centimetri di diametro, quindi di 2 centimetri in più. Ma la chiameresti una super pizza? Non ti accorgi neanche della differenza, no? Vabbè, ma questa aggressività, megnetti, non la comprendo. No, ma non è nei tuoi confronti, ovviamente, è nei confronti di tutto il can-can che viene tirato fuori ogni volta su questa storia della super luna. Anche perché, se dovessimo continuare con questo ragionamento, allora la super luna vale anche quando c'è il quarto di luna, perché in quel momento che la luna è più vicina alla Terra, ma nessuno va a dire ecco il super quarto di luna o cose di questo tipo, no? Non ancora, megnetti, non ancora. Non potrebbe succedere. Quindi forse dovremmo anche un po' smetterla con tutte queste storie sempre intorno alla super luna. Poi le foto di solito, per farti sembrare la luna un po' più grande, sono fatte con dei teleobiettivi e, come dici tu, mettendoci davanti un bel monumento, no? Quindi la prospettiva viene schiacciata tantissimo e sta luna sembra gigantesca, ma provate a guardarla a occhio nudo oppure a fotografarla con il vostro smartphone. Non vi viene mai una super luna, vi viene una luna bellissima, come sempre, è sempre lì in cielo, bella, luminosa all'apparenza. E ci va bene così, perché dobbiamo chiamarla super? È sempre super la luna, no? Bene, avete assistito alla nuova rubrica di Ci vuole una scienza che chiameremo i rent di megnetti. Ma solo quando la luna è storta. Ah! Bene, dopo questo piccolo sfogo, mi scuso con tutte e tutti, ma qualcuno doveva pur farlo, non è uno super sfogo, tra l'altro. Eh, no, no, ma comunque non ti farò mai più un regalo, megnetti, mai! Secondo me era tutto studiato per arrivare poi a quest'ultima conclusione. Tu mi sopravvaluti, o forse mi sottovaluti, megnetti. Comunque, se volete anche voi inviare degli argomenti che faranno arrabbiare il mio compare di podcast, potete farlo scrivendoci a ci vuoleunascienza-ilpost.it, dove raccogliamo i vostri suggerimenti, complimenti, le critiche, insomma tutto quello che ci volete scrivere. Questa, come dicevamo all'inizio della puntata, è la prima puntata della quarta stagione di Ci vuoleunascienza. Vuol dire che ci sono altre tre stagioni che, se non avete mai ascoltato il podcast, vi aspettano. Potete trovarle su tutte le piattaforme e sull'app del post, e quindi recuperarle e anche poi condividerle con le persone a cui pensate possano interessare gli argomenti che trattiamo. E noi, come sempre, da quattro stagioni, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao! Ciao!